Formare un proprio gruppo. Beh, è sempre una soddisfazione. Nel 2012 ho fatto il mio primo Wikis Trio. Come l'ho formato? Allora, era un'epoca nella quale io sentivo l'esigenza di dover propormi anche come leader. Indipendentemente dal successo, volevo formare un gruppo mio per suonare la mia musica o per suonare anche degli standards rielaborati. Per esempio, una cosa che io faccio da sempre è non tanto scegliere degli standards vicini all'idioma del jazz moderno, ma al contrario, far suonare in maniera attuale, moderna, dei brani antichissimi. Io ho fatto un disco tanti anni fa con Francesco Patti al tenore e Gianluca D'Ienno all'organo Hammond dedicato a Louis Armstrong e a Fitz Waller. Ho scelto una dozzina di brani della tradizione jazzistica e li ho fatti suonare a due ragazzi talentuosi, molto giovani, che di Dixieland non sapevano nulla. Ma io non volevo farli suonare Dixieland, volevo semplicemente proporre queste melodie degli anni 20-30 e rinnovarle con il linguaggio di due ragazzi che suonano oggi con le loro caratteristiche stilistiche. È stato molto divertente. La scelta dei musicisti. Beh, il mio Wicked Trio è nato grazie all'aver partecipato in commissione a dei concorsi di giovani talenti e io e i miei colleghi sceglievamo i musicisti che di volta in volta hanno poi vinto le edizioni di questo concorso. Quella è stata un'occasione fantastica, perché ho potuto ascoltare decine di giovanissimi talenti. Ecco, mi si sono accese le lampadine e con due di loro, Francesco Patti, sassofono, e Giuseppe Cucchiara, contrabbasso, ho formato il mio primo trio. L'impegno è stato quello di investire tempo e denaro per provare con questi ragazzi, per indirizzarli verso quello che è stata la mia idea musicale di trio, la mia scelta di repertorio, consigliando come esprimere la loro personalità attraverso dei brani miei che non avevano un preciso indirizzo stilistico. È stato un bell'impegno che mi ha aperto la mente, perché chiaramente io essendo il più vecchio e il più esperto dei tre, ho potuto dare tanti consigli ai giovani ragazzi, avevano 16 anni, ma a loro volta mi hanno dato degli input diversi da quelli che potevo avere io integrato nella mia testa. La seconda versione del Wikis Trio, che è quella attuale, con Giuseppe Vitale e Stefano Zambon, anche Giuseppe Vitale l'ho conosciuto 15enne a un concorso, mentre Stefano Zambon l'ho conosciuto in conservatorio a Milano, quando tanti anni fa insegnavo lì. E anche in quel caso ho adocchiato questi due ragazzi, tra i tanti che giravano, e ho detto bene, con loro due posso costruire qualcosa. La scelta dei musicisti deve essere istintiva di sicuro. Se abbiamo la fortuna di suonare con tanti musicisti, possiamo scegliere quale tipologia di strumentista e quale ideale musicale può essere condiviso con dei musicisti che poi chiami nel tuo gruppo. Non vi nego che tanti e tanti anni fa anch'io ho avuto la debolezza di pensare, di formare un gruppo non con dei giovanissimi sconosciuti, che nel frattempo adesso sono diventati conosciuti, ma di formare un gruppo con dei musicisti già noti. Sono state esperienze bellissime. Purtroppo hanno avuto vita breve perché io non avevo nessuna capacità imprenditoriale in quanto leader e oltretutto non avevo nessun peso commerciale in quanto leader. In realtà anche adesso non è che io abbia un grande peso contrattuale, semplicemente perché non mi dedico troppo alla promozione del mio trio. Per tanti motivi, perché la didattica mi assorbe moltissimo, per pigrizia. Non ultimo il fatto che i due ragazzi che suonano con me si danno da fare e hanno trovato a loro volta una loro strada in veste di leader o in veste di sideman. La mia pigrizia in questo caso si tramuta in orgoglio. Ho forgiato dei giovani che camminano con le loro gambe. Quando riusciamo a riunirci è una grande festa. Voglio essere leader di un gruppo con dei giovanissimi da crescere. Non dico di essere stato un pioniere, ma nel nostro ambiente sicuramente sono uno tra i pochi musicisti maturi che una decina d'anni fa ha cominciato a buttarsi in un progetto con dei giovanissimi. Ritengo che ciò sia parte integrante del mio modo di essere. Più cresco, più voglio divulgare la mia esperienza musicale, artistica, professionale e didattica ai giovani. Nel contempo voglio anche formare dei gruppi con dei giovani. Suonando il più possibile, per quel poco o tanto che si può fare, ciò mi serve per spronare alcuni di questi giovani affinché capiscano come muoversi in questo mondo complicato. Registrare dischi con il grande nome internazionale non mi è mai interessato. E' pur vero che mi è capitato. Abbiamo fatto due dischi meravigliosi con Tom Harrell, ma perché Dado Moroni ha voluto formare un gruppo con noi e con Tom Harrell che è un suo amico. Non siamo andati alla ricerca del nome altisonante per vendere qualche disco in più. Quello è un gruppo che si è formato con quei musicisti, Tom Harrell compreso, perché Dado voleva quel tipo di sound e quel tipo di line-up. Spendere una barca di soldi per invitare il grande nome americano, per far vedere che ho suonato con quel grande nome americano, sinceramente non mi interessa, non mi è mai interessato, anche quando ero più giovane e meno noto di adesso. Più invecchio, più mi addentrerò in progetti con giovani sconosciuti. E questa per me è la più grande soddisfazione.